Salvatore, un'altra crisi profonda che riguarda il mondo del lavoro, parliamo della ditta Bricofer che ha mandato tutti a casa? Purtroppo dici bene, insomma una catastrofe, penso non ci sia aggettivo migliore per poter definire quanto sta succedendo ancora una volta. Tutto un'altra scuola che si abbatte su questo nostro territorio, ormai strutturalmente martoriato e depauperato di tutte quelle che sono le attività produttive. Parliamo della vertenza del Bricofer del punto 20 di Crotone, era un po' di tempo che noi eravamo preoccupati anche a seguito di alcune assemblee con i lavoratori, per cui avevamo subito in maniera preventiva come Fisaskat chiesto un incontro urgente alla società che ci concedeva in data del 29 febbraio ultimo scorso è che purtroppo a quel tavolo in presenza dell'amministratore delegato quelle sensazioni venivano purtroppo confermate dalla dichiarazione fatta a quel tavolo anche in maniera abbastanza cinico da parte dell'azienda sul fatto che questo punto vendita non era più nelle condizioni di poter continuare la propria attività. Cosa intende fare il sindacato di fronte a quest'altra emergenza che riguarda il mondo del lavoro e dell'economia? Il sindacato intende fare per quello che mi riguarda nelle continue vertenze che purtroppo ormai siamo chiamati ad affrontare è quello di fare delle proposte serie e costruttive, ovviamente a condizione che tutto questo ci venga permesso e concesso. Quindi a quel tavolo noi abbiamo subito messo in campo e abbiamo rappresentato tutti i nostri dubbi ma soprattutto abbiamo rappresentato in maniera dettagliata, in maniera tecnica e precisa ogni sorta di soluzione atta alternativa al scongiuramento, quindi a scongiurare questo licenziamento collettivo che non è per riduzione personale ma per cessazione di attività. Quindi avevamo chiesto all'azienda, abbiamo specificato in maniera dettagliata, ripeto, entrando in ogni forma di tecnicismo proprio di poter fare richieste e quindi poter aderire a una forma di ammortizzatore sociale ai quali poteva essere un contratto di solidarietà, comunque ai quali l'azienda poteva sicuramente accedere. Ovviamente anche eventualmente a qualche trasferimento di dipendenti nei punti vendita di Catanzaro e Cosenza e poi per tutta risposta il 13 marzo ultimo scorso ci arriva la comunicazione dell'apertura del licenziamento collettivo. Crotone si ritrova dunque ad essere oggetto soltanto di licenziamenti, di situazioni di difficoltà e non c'è futuro a questo punto, nemmeno per la nostra economia. Crotone ormai è diventato solo e esclusivamente oggetto di licenziamenti, quindi per quello che posso dire in questo momento, ripeto, difficile, sono tempi straordinari, io penso, ritengo che i tempi straordinari richiedono interventi straordinari nella maniera più assoluta. Bisogna cambiare quelle che sono state le politiche economiche fatte in questi anni e fare veramente quelle politiche serie di investimenti sulle infrastrutture perché questo territorio esca fuori da un isolamento e che si riesca con competenza, con coscienza, veramente a ricostruire un tessuto economico, sociale, imprenditoriale che questo territorio oramai sta andando a perdere ogni giorno di più. C'è una desertificazione totale e questo non ce lo possiamo permettere.